Pochi giorni fa, più di 50 studenti dell'Eceo Classico del Castro di Oristano, insieme agli studenti della Delegazione Portoghese e Lituana del progetto Erasmus PU, hanno partecipato a una giornata ecologica organizzata in collaborazione con l'area marina protetta penisola del Sinis, isola di mal di ventre. Il progetto, che ha come obiettivo la conoscenza e la protezione degli oceani, coinvolge un consorzio di scuole dell'Unione Europea, originari di Lituania, Germania, Portogallo, Bulgaria e appunto Italia, e ha visto i ragazzi impegnati in una mattinata di pulizie della spiaggia, seguita da una lezione sull'inquinamento dei mari. Sono più di 200 i chili di spazzatura che i giovani hanno prelevato dal litorale tra micro e macro rifiuti. I giovani studenti hanno potuto apprendere da biologi dell'istituto IAS CNR di Oristano l'eccessiva presenza di rifiuti abbandonati nel terreno, soprattutto plastiche, si riserva in mare causando gravi danni all'interno dell'ecosistema. Abbiamo accolto di buon grado la proposta presentata dai docenti del Liceo De Castro perché riteniamo fondamentale l'approccio con le nuove generazioni, ha spiegato il direttore dell'area marina protetta Massimo Marras, per essere completamente consapevoli dell'importanza delle buone norme di comportamento al fine di preservare l'ambiente e fondamentale l'attività diretta e questi ragazzi stanno svolgendo un percorso che rientra a pieno nella modalità di coinvolgimento. Non è la prima volta che collaboriamo con l'area marina protetta del Sinis, spiega la docente di riferimento del progetto Erasmus, Francesca Carboni. Questo percorso specifico nasce nel 2019 e grazie ai viaggi nei vari paesi coinvolti permette ai ragazzi di toccare con mano diverse realtà. I ragazzi hanno partecipato con convinzione alla mattinata ecologica, spiega l'insegnante, e hanno percepito quanto sia urgente la necessità di modificare i comportamenti dannosi perché è più complicato pulire piuttosto che evitare di fare appunto rifiuti. A breve avranno modo di approfondire il discorso analizzando il Mar Baltico e il Mar del Nord, comparando la situazione dell'inquinamento delle acque al di là del Mediterraneo. Grazie. 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 Grazie.